Buongiorno ballerini! Non sapete quale scuola di danza scegliere? Bene, oggi vi illustrerò le 5 caratteristiche che una scuola d'avviamento professionale deve avere. Al giorno d'oggi ci sono moltissime scuole di danza, continuano ad aprire scuole di danza dappertutto anche persone che non sono qualificate, che non hanno fatto un corso per insegnanti, che magari hanno ballato anche in una compagnia ma che non sanno effettivamente come insegnare perché c'è una grande differenza tra il ballare in una compagnia, essere una ballerina e sapere insegnare. E questo diciamo è il meno peggio, a volte ci sono anche persone che non ne sanno niente di danza, che magari hanno fatto 2 o 3 anni di danza nella loro vita e decidono di aprire una scuola di danza. Attenzione a queste cose, se andate in una scuola di danza innanzitutto deve essere una scuola di danza con degli insegnanti certificati, che abbiano un diploma di insegnamento alla scala, all'opera di Roma, dell'Axidee, qualsiasi cosa, che siano certificati perché questo vi garantisce che hanno fatto delle ore anche di pedagogia, di anatomia, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa dovete davvero valutarla e verificarla. Iniziamo con la prima regola. Una scuola di danza di avviamento professionale deve avere una sala da danza adeguata. Questo che cosa significa? Deve avere un pavimento ammortizzato con il linoleo. Deve avere delle belle sbarre, magari attaccate al muro o anche di quelle che si possono spostare, ma belle, con del legno bello, senza che ci siano scheggi o che siano scricchiolanti o che non si riescano ad alzare correttamente. E poi deve avere degli specchi. Questo perché? Perché è necessario che la ballerina si guardi mentre lavora. Non sempre, perché non sono tanto dell'idea che lo specchio sia veramente il nostro miglior amico. Nel senso che certo, dobbiamo avere lo specchio per guardarci, per capire se siamo messe giuste, ma lo specchio non deve diventare un'ossessione del tipo continuo a guardare lo specchio intanto mentre ballo che esce una schifezza, ok? Però deve esserci lo specchio perché è un punto fondamentale. E inoltre sarebbe gradito anche un orologio in modo tale da poter monitorare il tempo ed essere sempre puntuali nell'inizio e nella fine della lezione. Seconda regola. Deve dedicare il giusto tempo a tutti i livelli. Per esempio, il gioco danza va bene se fatto una volta alla settimana, perché è fatto da bambini di 3-4 anni, per cui va benissimo una volta a settimana, è un divertimento, un gioco e quindi ci sta. Più si alza il livello, più le ore di studio devono aumentare. E dai 12 anni io consiglierei un allenamento giornaliero, quindi 6 giorni su 7. Per cui assicuratevi che vi siano garantite le ore necessarie. Non è necessario un'ora e mezza alla settimana o due ore alla settimana. Sono necessarie tante ore alla settimana. Io sto parlando di avviamento professionale, quindi non danza come hobby, ma come avviamento professionale. Terza regola. È fondamentale che vi sia data una divisa che sia per tutte uguali e che pretendano che i vostri capelli siano sempre ordinati. Questo è davvero un punto fondamentale. In accademia la divisa è una, nelle scuole professionali la divisa è una sola. Non è possibile che ognuno vesta il proprio body, perché è una classe ordinata, è una classe bella, tutta uguale, vestita, e devono pretendere da voi che arriviate, vestite sempre tutti uguali, adeguatamente pulite e ordinate e anche con i capelli ordinati. Lo chignon non è un optional. Io vedo ancora scuole di danza in cui la gente va a danzare con i capelli sciolti. Soprattutto della danza classica. Aiuto ragazzi, aiuto. Non esiste una cosa del genere, assolutamente. Un'altra regola importantissima è la puntualità degli insegnanti, quindi delle lezioni. Una scuola professionale deve garantire tutte le volte una puntualità dell'inizio della lezione e poi la fine della lezione nella danza c'è sempre il nostro quarto d'ora accademico, diciamo, in cui si può sforare. Ditelo anche ai genitori che a volte sono fuori così. Dov'è mia figlia? Deve uscire mia figlia? Mi ricordo, aneddoto time, che quando ero piccola finivamo sempre magari un quarto d'ora dopo perché ci sta, stai finendo di provare il balletto, eccetera. E se vi dedicano più tempo è sempre meglio, se vi dedicano meno tempo è il problema. Comunque poi andavamo negli spogliatoi e ci fermavamo a parlare continuamente, c'erano i genitori dall'altra parte. Bregate, Elisa, veloce! Questa è sempre stata la cosa più divertente. Comunque, per noi no, per i genitori. Quindi la cosa più importante è che vi garantiscano l'inizio della lezione puntuale. Non mi ricordo più se le ho fatte tutte. Sta andando bene? Puntualità, regolarità. Un'altra cosa importante sempre riguardo alla puntualità e alle lezioni, il fatto che siano regolari. Quindi che vi garantiscano la frequenza settimanale e che soprattutto se ci sono qualche lezione da recuperare o delle prove in più da fare, che abbiano gli orari, i tempi e gli spazi adatti ad ogni vostra esigenza. Un'ultima regola, che queste scuole siano affiliate o che comunque abbiano i contatti di un team di specialisti. Che cosa intendo per team di specialisti? Uno psicologo, un nutrizionista e un fisioterapista, ortopedico, insomma, di questa categoria, tutto ciò a venire. E magari anche un centro sportivo, comunque affiliato, che vi possa fare i certificati di buona salute. Quindi un team davvero ampio di persone competenti che possano sempre essere lì per aiutarvi. Questo ve lo dico perché? Perché è importante. Ogni volta che ci facciamo male, all'inizio dell'anno abbiamo bisogno del certificato di buona salute, dell'elettrocardiogramma, piuttosto che abbiamo problemi con il cibo, eccetera, eccetera. Abbiamo un team dietro forte che la scuola vi propone, con cui possiamo assistervi. È davvero il top del top, perché significa che la scuola ci tiene al singolo allievo, ci tiene ad ognuna di voi e vuole che ognuna di voi sia in salute e che raggiunga i massimi risultati. Quello che vi voglio dire con queste cinque regole è che sono le linee guida che una scuola professionale dovrebbe avere. Ovvio che se magari gli manca lo psicologo o l'orologio nella sala, voglio dire, non cade il mondo. Però sono comunque dei piccoli accorgimenti che vi fanno capire davvero la validità di una scuola. Poi se per caso non hanno quel nutrizionista e non sanno chi consigliarvi, andate a prendervelo voi. Però indicativamente devono avere un'attenzione particolare ad ognuno degli studenti. Certo è che se l'insegnante inizia la lezione 30 minuti in ritardo oppure manca tantissime volte, è un punto gravissimo, è veramente irrispettoso nei confronti degli alunni. Poi l'insegnante non può pretendere che l'alunno arrivi puntuale se lui stesso la metà delle lezioni arriva tardi. Quindi questo è un punto imprescindibile su cui davvero non si può discutere. A volte io vedo scuole di danza che fanno 80.000 corsi, eccetera, eccetera, di pop, di danza moderna, di tutto quello che è. Quello che voglio dirvi io è che non è sbagliato proporre tanti corsi, va bene. L'importante è che si scelgano degli insegnanti eccelsi per ogni corso, che quindi tutti i corsi siano con un'offerta valida. Quindi sta proprio a valutare la scuola in sé, perché potrebbero modificare il vostro corpo, perché la danza lo modifica e quindi un allenamento sbagliato con un insegnante che non è competente potrebbe danneggiarvi. Ma anche in senso positivo, se una scuola di danza è una buona scuola di danza, è valida, vi potrà portare ad accedere alla migliore accademia o magari già addirittura alle migliori compagnie. Quindi la scelta della scuola di danza è davvero davvero fondamentale. Non sceglietela più vicina a casa, cercate di fare delle selezioni corrette. E poi ci sono moltissime scuole di danza che danno anche delle borse di studio, quindi non preoccupatevi troppo per il fattore economico, perché sono sicura che potranno venirvi incontro. Se questo tipo di video vi è piaciuto, mettete like, anche per farmi capire se volete altri video di questo tipo. Mi raccomando, iscrivetevi nella mia icona qui e al prossimo video. Ciao! Ciao!